Il 14 giugno all'Aquila sarà celebrata la giornata mondiale del donatore del sangue, una giornata importante che in vista dell'estate serve soprattutto a sensibilizzare ancora una volta sull'importanza della donazione. In Abruzzo infatti è spesso emergenza sangue, dunque benvengano tutte le iniziative volte a supportare questa emergenza, che con la stagione estiva si fa sempre più pressante. Alla luce delle nuove normative europee, peraltro, è necessaria la riorganizzazione della rite trasfusionale della regione Abruzzo. La giornata del 14 sarà importante per parlare della donazione del sangue in Abruzzo. La Sala Convegni dell'Ordine dei Medici, dalle 16 alle 19.30, ospiterà il convegno sulla giornata mondiale del donatore. Parteciperanno l'Avis comunale con la sua presidente Maria Rita Cassiani, l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il presidente dell'Avis regionale Giulio Di Sante, il presidente dell'Avis provinciale Antonio Giulianella, il direttore del centro regionale sangue Pasquale Colamartino, il dottor Luigi Dell'Orso, primario di medicina trasfusionale all'ospedale dell'Aquila e Luciana Celeste, che parlerà dell'esperienza del Servizio Civile Nazionale e del volontariato in questo senso. La tavola rotonda finale sarà aperta a tutte le associazioni del territorio.